Si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento estivo con le mostre di pittura a Palazzo Paolina di Viareggio. In esposizione le opere del costruttore di Carri del Carnevale e raffinato pittore Carlo Vannucci Bocco nel centenario della nascita e contemporaneamente in un'altra sala della villa, che fu della sorella di Napoleone Bonaparte, la mostra della nuora del compianto carrista Loredana Lippi, allieva di Giorgio Michetti, dal titolo Falsification. Mostra che è stata prorogata fino al 31 agosto prossimo. Che cosa racconta questa mostra? Allora, questa mostra si chiama Falsification e sono due parti. La prima invita l'osservatore a entrare nel mio mondo, un mondo sognante. La seconda invece è dove l'osservatore può confrontarsi con i sette vizi capitali. Il tutto è rappresentato sempre da donne. Queste opere nascono tutte nel nostro territorio oppure hai preso spunto da qualche altra parte? Allora, queste foto, che forse non è neanche corretto chiamare foto, raffigurano la digital art, quindi è una mescolanza di foto fuse fra loro. E quando io vado a fare un viaggio in più parti d'Italia e anche all'estero, raccolgo fotografie già immaginando il mio percorso finale.